Sono 106 migranti salvati nelle acque del Mediterraneo dall'equipaggio della Humanity 1. Arriveranno quasi sicuramente martedì prossimo alle 8 del mattino circa al porto di Ortona. I naofraghi salvati in due operazioni da una ONG tedesca a largo della costa libica. Nel corso di un primo intervento erano state intercettate 31 persone che navigavano su una barcha in vetro resine in acque internazionali senza giubbotti di salvataggio. Le persone soccorse sono state visitate e trovate in buone condizioni sulla nave gestita dalla ONG tedesca SOS Humanity che ha sede a Berlino. Non solo, l'equipaggio ha poi portato a termine un secondo salvataggio nel corso del quale sono state portate a bordo della Humanity 1. altre 75 persone, tra le quali si contano anche donne e bambini. Anche in questo caso la barca in legno era sovraffollata e rischiava di affondare in acque internazionali. Il salvataggio è stato coordinato dall'Agenzia Italiana di Gestione Emergenza, portando così complessivamente a 106 migranti caricati sulla Humanity che verranno portati quasi sicuramente martedì nello scalo marittimo di Ortona torna alle 8 del mattino. Il vice prefetto di Chieti Braga però al momento non si sbilancia. Le notizie dice sono ancora frammentarie anche sulla nazionalità dei naufraghi per Ortona e il nono sbarco di migranti.